Ed ora attendere, sognare e poi festeggiare. Attendere che venga messo tutto nero su bianco e che poi diventi ufficiale. Sognare che accada il primo possibile quello che per molti era un'utopia destinata a rimanere tale e poi festeggiare per un traguardo sudato, voluto e conquistato con un finale al cardiopalma che vuol dire aver scritto la storia. Manca dunque solo l'ufficialità, ma per il Fuzz al Bitonto 2019 la conquista della Serie B sembra essere ormai davvero ad un passo. Nei prossimi giorni infatti il presidente Sibilla, più alcuni consiglieri in quota Lega Nazionale e direttanti si riuniranno per adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati regionali con i quali assegnare promozioni ed eventuali retrocessioni. In questi giorni di attesa dunque per l'intera Bitonto sportiva è un corpo emozionante ricordare come a condurre i neroverdi alla seconda vittoria consecutiva del campionato in soli due anni di attività agonistica siano state due reti messe a segno negli ultimissimi secondi nelle ultime due gare casalinghe di campionato. Se quella in scivolata è la sottoporta di Francesco Lorusso contro il San Ferdinando infatti aveva tenuto accesa la speranza di potersela giocare fino alla fine quella del brasiliano Ivan Zervini a 27 secondi dalla fine nell'ultima gara della stagione contro l'Andria verrà ricordata per sempre come la rete che ha consegnato il Fuzz al Bitonto al mito. Ancora pochi giorni dunque e sarà festa anche in casa Fuzz al Bitonto 2019 una festa di quale è bella da organizzare, da vivere e poi da ricordare per sempre una festa che, unita a quella del Bitonto Calcio e per la promozione in Serie C vorrà dire una cosa soltanto la favola della piccola provincia che con passione, sacrificio ed uno straordinario lavoro dei suoi uomini ha saputo tingere di neroverdi all'intera Puglia disognandone uno straordinario futuro che assomiglia sempre più ad un sogno. Grazie a tutti